avete visto la novità dell'espansione generativa che è stata inserita all'interno di adobe firefly proviamola insieme quindi io vado a schiacciare il pulsante prova mi trovo in questa schermata dove c'è un'immagine di esempio di questo di questo leone o giaguaro vado ad aprire con la taglierina i lati che voglio ricostruire per esempio voglio fare sopra sotto a destra magari qua sotto lo voglio fare più alta quindi so che qua non ce la farà per esempio con la ricostruire tutta la testa perché non c'è spazio ma vado a fare genera qui c'è impostato vedete espandi rimuovi inserisci sposta facciamo genera ecco qua le tre proposte che vengono fatte con tre sfondi sempre molto attinenti a quello che c'era precedentemente come vedete non è stato sufficiente lo spazio per costruire l'orecchio ma proprio per farvi vedere che se io adesso vado a fare mantieni alzo e do possibilità di costruire ancora questo quindi schiacciando mantieni tengo buono quello che è stato fatto precedentemente e poi vado avanti a fare genera ecco che adesso anche la parte superiore è stata ricostruita con le nostre tre possibilità a me piace di più la prima questa poi supponiamo di voler aggiungere qualcosa quindi io vado a mantenere questa parte e vado ad aggiungere con il pulsante inserisci in un'area che c'è qui in alto a destra in questo spazio voglio mettere un pappagallo colorato che vola quindi vado qua sotto e vado a mettere nel prompt e red ara un pappagallo flying in the sky side shot c'è uno scatto di fianco quindi red ara parrot magari specifico che appunto un pappagallo ho detto parrot vediamo cosa succede bene questo non è male questo va girato di là non mi piace questo è ancora più dinamico faccio mantieni e cosa ci possiamo mettere qua in fondo qualcos'altro ma proviamo a fare delle montagne qua vediamo che che genere di montagna va a creare se faccio una cosa così e mountain on the background sullo sfondo vediamo un po le genererà con lo stesso stile beh non male questa bello il fatto che rimangono sfocate sullo sfondo tra questa e questa magari queste mantieni e posso scaricare la mia immagine che avrà il numero di pixel che corrisponde a non guardate sulla misura che aveva la taglierina comunque vado di qua e vado ad aprire in illustrare in photoshop questo è il file che si è salvato di dimensioni in pixel 1504 per 1719 pesa 7040 è ovviamente un png unico per cui non possiamo fare nulla perché è stato generato un'immagine non un psd con i livelli però abbiamo realizzato un contenuto in pochi secondi che probabilmente con dei fotomontaggi ci avremmo messo del tempo superiore con relativi vantaggi e svantaggi vi faccio notare che in adobe firefly sono in arrivo anche altri altre funzioni tra le quali a breve audio e video generativi quindi modificabili con l'intelligenza artificiale e video generale